L'ospedale di Affagnan Eccoci davanti all'ospedale di Affagnan dove da due anni lavoriamo tra i stessi fatti di San Jean de Dieu Oggi è domenica quindi l'attività è ridotta Questa è la portineria 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 Questa andrà Questa è la portineria Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.